Non volevo mancare almeno con un messaggio di ringraziamento per la loro disponibilità ed amicizia, per Sergio ed Emili, per la costanza e l'entusiasmo con cui portano in giro la loro meravigliosa storia d'amore. Un grazie anche per la sensibilità di tutti voi che partecipate a questa serata e ad un progetto pieno di solidarietà e di affetto nei confronti di un amico, Angelo Meraviglioso che è Cristian. Grazie ancora, questo è semplicemente un arrivederci a presto. Un abbraccio a tutti, buona serata. Ciao da Sergio Reggioi e tutti i nomadi. Petto 5 Massimo Sergio da Nuno e da Nuno. Scritta dai nomadi, per noi e per voi. Un abbraccio a tutti i bambini e soprattutto i nomiisti. Grazie a tutti, benedica. Per giocare un'aquilone, un gesso bianco, un vecchio muro. Ma stava niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, invaderai. Crescerai, arriverai. Crescerai, tu avrai. Crescerai, buona serata. Crescerai, buona serata. Crescerai, tu avrai. Crescerai, tu avrai. Crescerai, liberai. Crescerai, tu avrai. Crescerai, tu avrai. Crescerai, tu avrai. Crescerai, buona serata. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione.